Siamo con Alessandro Maestri dopo l'esordio dell'Italia al Premier 12, una sconfitta contro Porto Rico in una gara che ha avuto un risultato molto più ampio di quanto non si sia visto nei valori espressi in campo, gli episodi hanno girato tutti per il verso di Porto Rico. Sì, onestamente Porto Rico non ci è sembrato così imbattibile, purtroppo come hai detto gli eventi hanno fatto sì che abbiano avuto la meglio su di noi con un risultato anche abbastanza ampio e niente, purtroppo forse con un poco più di decisione anche nei primi inni sarebbe potuta essere un'altra partita. C'è stato quel quarto inning che ha dato la svolta prima di eliminato a casa di Vaglio con anche qualche dubbio sull'interpretazione del regolamento da parte dell'arbitro, tu come l'hai vista l'azione? Io dire il vero ero dentro a cambiarmi la maglietta, quindi purtroppo non l'ho vista, ho avuto modo di vederla in un replay, l'ho vista solo una volta e mi è sembrata comunque una giocata normale nel baseball, poi sinceramente dovrei riguardarla più volte per giudicare meglio. Come valuti la tua prestazione? A un certo punto avevi dato l'impressione proprio di poter dominare Portorino? Sì, dal secondo al terzo inning sono quelli che mi sento meglio e purtroppo nel quarto inning ho messo gli uomini in base, quindi ho dovuto combattere, tirare dei lanci in più ed è stato quello che mi ha penalizzato, nel senso che poi mi hanno dovuto togliere dalla partita e mettere in rilievo, cosa naturalmente normale, però personalmente mi sarebbe piaciuto andare più in avanti nella partita, lanciare più inning, sicuramente. Per chiudere si dice sempre che si gioca una partita alla volta, è piuttosto vero in questo caso, nel senso che tutti avversari fortissimi bisogna trovare in un momento di debolezza diciamo e dare sempre il massimo. Sì, in tutte le partite ci saranno momenti, episodi che diceranno la partita, quindi oggi purtroppo è andata meglio loro e domani ce la giocheremo con Taiwan e dobbiamo essere cinici a ascoltare le occasioni che ci presenteranno.